Vorrei fare una considerazione generale sull'indagine in genere e sui risultati in particolare. Mi domando se fare questa indagine, abbiamo sentito parlare, abbiamo descritto come è stata fatta, quali sono stati i risultati, è un adempimento legislativo o ha una qualche funzione per il cambiamento dell'indirizzo nella gestione dell'istituto, perché ci sono due elementi che emergono subito, in altre occasioni ce ne sono stati altri, che in realtà a me mostrano una direzione se non proprio opposta, quantomeno conflittuale rispetto agli esiti dell'indagine. Una è come è stata scritta la comunicazione che annunciava questa giornata, nella quale non si diceva ci sarà la giornata alla quale è possibile partecipare e sarà anche possibile seguirla in streaming, ma si diceva solamente che era possibile seguirla in streaming, poi uno con un po' di pratica andava lì e scopriva che ci si poteva iscrivere lo stesso e si iscriveva. Dopo le esperienze passate in cui da parte del personale era venuta manifesta la volontà di confrontarsi, questa voluta o non voluta riflette se non altro inconscia una cosa a dire ma forse se non vengono è meglio, però adesso questo è un processo alle intenzioni, però in ogni caso voluta o non voluta riflette qualche cosa che significa che non è stato compreso l'esito dell'indagine. dall'altra parte, un'altra cosa che dimostra questa stessa tendenza è il fatto che il Presidente e il Direttore Generale sono venuti qui, hanno parlato, se ne sono andati, non voglio dire che dovevano stare tutta la mattina a sentire qui, ma almeno tornare per assistere al dibattito e ascoltare che cosa voleva dire il personale a loro, sarebbe stata se non altro una dimostrazione di attenzione nei confronti del personale, ma questa era rivelata anche dal modo nel quale hanno parlato, perché hanno detto farete, fate questa vostra giornata, loro no, loro non fanno parte dell'ISPRA? Mi piacerebbe che queste cose venissero trasferite a loro, ovviamente gliele avrei volute dire personalmente, ma non essendoci non lo posso fare. Questa è la considerazione generale sull'indagine, sugli esiti che d'altra parte non potevano che essere questi, lo sapevamo già, c'era stato il progetto pilota, non è cambiato niente da un anno a questa parte e quello pure è significativo del fatto che l'indagine forse non è servita a mettere in pratica altri indirizzi. Poi invece le considerazioni sul merito di alcuni aspetti, capisco che l'attività dell'organo di valutazione, mi sembra di capire che è determinata dalle indirizzi della legge 150, però la legge 150, l'ha detto lo stesso Dottor Lagommare adesso, è se non considerata nell'ambito idoneo, ha detto una cosa esplosiva mi sembra, io so da quando è stata scritta, ho detto è una mina piazzata sotto la pubblica amministrazione perché crea un clima conflittuale dentro gli uffici, è stata scritta male ed applicata non lo so se è peggio, ma insomma scritta con l'intento di creare problemi alla pubblica amministrazione, questo è evidente da ogni virgola, infatti non riesco a capire ancora quali siano gli aspetti positivi, in ogni caso è una legge pensata per una struttura amministrativa e è applicata a un ente di ricerca che ha attività e tipo di servizi, è completamente diverso, nel quale non si possono trasferire quel tipo di valutazioni con quel criterio, poi quella cosa che sicuramente ci sta il 25% che sono cattivi, il 25% che sono buoni, il 50% così così, questa è già una cosa che dimostra quanto bacato fosse il pensiero, lo so, d'altra parte con tutte le cose che sono state dette, sforando nei tempi, d'altra parte adesso che devo fare le considerazioni, cercherò di non sforare nei tempi e tra l'altro appunto quello prevede la valutazione della performance, per fare la valutazione della performance devo fare la programmazione, con che la faccio che non mi danno i soldi, me li tagliano tutti gli anni, me li levano a metà dell'anno, il bilancio viene approvato sempre più tardi, le assegnazioni ai dipartimenti non sono fatte, ma io che valuto di che, la programmazione di che, poi certo le procedure sono farraginose, sì lo sono perché c'è sempre, perché te volevi fare questo e quindi ti metto mille vincoli, per cui è chiaro che praticamente l'attività noi non la svolgiamo più, la Corte dei Conti fa pure i suoi apprezzamenti sul criterio per il risparmio, punto, ma sulle attività che ne hanno risentito lo fa la valutazione, no perché la Corte dei Conti è competente peraltro, per cui è chiaro che su questo e qui viene fuori la contraddizione evidente sul fatto che sono proprio i ricercatori e i tecnologi quelli che soffrono di più in questa situazione, mentre addirittura vedevo dai risultati che gli amministrativi quasi quasi pensano di essere valutati correttamente, ho qualche dubbio, però adesso questa è una cosa personale, tra l'altro la parte tecnico-scientifica sconta una conflittualità con la struttura del Ministero, qui c'è qualcosa che complessivamente è stato pensato male, ve lo dico proprio come lo penso, il Ministero dovrebbe essere la parte amministrativa di indirizzo, la parte tecnico-scientifica dovrebbe stare solo dentro Ispra, questo è quello che penso io ovviamente, però tra l'altro penso che in tutti questi anni che abbiamo vissuto continue, io vengo dal DSTN, accorpamenti, commissariamenti e così via, non solo, ma tutte le riforme, ogni volta si arriva dicendo vogliamo fare la riforma della pubblica amministrazione, ma com'è che nel momento in cui chi ha subito la riforma, elabora degli emendamenti, delle modifiche che la potrebbero far funzionare, arriva qualcuno e dice adesso faccio la riforma e ne fa un'altra, così quegli emendamenti non andranno mai a buon fine e continuiamo a portarci mal funzionamenti appresso così, per quello che riguarda la formazione, adesso vengo proprio finito, alla formazione, la formazione continua, mi sembra abbastanza evidente, è chiaro che pure dalla formulazione delle domande poi si possono creare delle ambiguità e delle incomprensioni, però se uno si valuta all'altezza del suo livello, ma si lamenta per la formazione, vuol dire che non è in grado di continuare a fare la formazione continua e garantire quel livello di prestazione, i criteri di valutazione, su questo non rovesciamo l'onere della prova, i criteri di valutazione, la trasparenza dovrebbe dettare che i criteri siano esplicitati nei bandi, non che poi la commissione si riunisce e decide, allora i criteri di valutazione sono questi, no, deve essere scritto nel bando, io lo voglio sapere da prima se posso partecipare o no e quali sono quei vincoli che mi consentono di raggiungere un certo punteggio oppure no e questo d'altra parte io l'ho vissuto mica solo qua dentro, ovunque, perché purtroppo sempre che addirittura una commissione all'università mi dissero, beh i soliti, glielo ho chiesti esplicitamente, sì i soliti, i soliti ditemeli, comunque c'è una discrepanza e questo ho avuto modo di dirlo al Presidente pure la settimana scorsa in un'altra occasione, tra le dichiarazioni di intenti e la pratica quotidiana, perché non sappiamo qual è l'indirizzo di questo ente? Perché sì, parole ne vengono spese tante, ma nella pratica quotidiana a quelle parole eseguono dei fatti che sono conseguenti? A me non sembra, nella maggior parte dei casi, sono determinati dai tagli? Probabilmente sì, però questi tagli sono un po' una maschera dietro la quale ci si nasconde, non dico solamente l'amministrazione qui, questa è una cosa generale purtroppo per tutte le pubbliche amministrazioni e d'altra parte per venire a quella del cambiamento di sede, mi dispiace, ma la documentazione che attestava le dichiarazioni da voi fatte all'incontro col personale non è mai stata esibita, nonostante ciò che aveva detto il Presidente in quell'occasione, non abbiamo nessun problema, facciamogliela vedere, non l'ho mai vista, io non l'ho mai vista, io non ho diritto a vederla, lo so perché ho fatto la richiesta agli atti e mi è stata negata, però allora l'amministrazione che non c'è problema, c'è la trasparenza, ma che la rendesse pubblica, fateci vedere le risposte alle richieste al demanio e così via, io ho visto in un'occasione in cui ho incontrato il Dottor Lagommare solo le richieste, ma le risposte non le ho viste e alla fine… A questo possiamo risolvere tutto, se viene dimostro tutto, perché guardi è una procedura talmente complessa… No, no, è questa l'altra cosa importante sulla trasparenza e sulla comunicazione, perché tante cose vengono dette, la comunicazione da parte dell'amministrazione deve essere scritta e dettagliata a tutto il personale, non ci stiamo a raccontare le cose, sì, viene… No, no, scritta la voglio la risposta e purtroppo quando mi sono rivolto a strutture dell'amministrazione per avere risposta scritta non l'ho avuta e non solo da lei, anche in altre occasioni, a proposito dell'orario di lavoro, del regolamento dal Dottor Pirrone e così via, per cui poi dopo vogliamo mettere che abbiamo il senso di appartenenza e lente sì, nonostante l'amministrazione direi a questo punto, per cui scusate però lo sapete che tanto come mi sento e lo dovreste anche capire sia dagli risultati dell'indagine, sia dal fatto che lo sapete come stiamo qua dentro e quanto soffriamo qui dentro e le difficoltà di comunicazione e di trasparenza qui dentro derivano anche dal fatto che non abbiamo una struttura adeguata, non abbiamo un posto dove far incontrare il personale, va bene il posto per la cosa, non mi ricordo come si chiamava, ma ci vorrebbe una sala riunioni adeguata, grande, dove il personale si possa incontrare, dove ogni servizio possa fare una relazione sulle attività di quell'anno, in modo che tutti sappiano che cosa si fa qua dentro e tutti si possano avvalere delle altre strutture e possano condividere ciò che fanno, mentre poi è vero che anche da parte del personale c'è un po' questa tendenza a dire questo è mio e non te lo dico, ma se l'amministrazione dicesse ogni anno ognuno deve dire quello che ha fatto, dopo sei tenuto e quindi forse lo fai. A proposito di trasparenza, lei è? Fiorentino, bene, per quanto riguarda la prima domanda, sì è un obbligo di legge, ma non l'abbiamo fatto solo perché è un obbligo di legge, ma perché era un progetto iniziato l'anno scorso che abbiamo inteso continuare. La comunicazione, proprio sulla scorta dei risultati e delle richieste che sono state fatte a valle della presentazione dei risultati della sperimentazione fatta l'altro anno, il rapporto non appena concluso è stato messo sul sito, è stato col moderatore data notizia dell'esistenza del rapporto, è stata mandata una mail a tutti i dipendenti nella quale era detto il rapporto è sul sito, lo potete leggere, consultare, tenete presente che ci sarà una giornata durante la quale saranno presentati i risultati. Il collegamento con il sito è stato ribadito in ultima istanza per un'ulteriore volta in occasione dell'annuncio della giornata, mancava il door to door a questo punto. Per quanto riguarda l'assenza non per tutta la giornata di Presidente e Direttore Generale, sicuramente non hanno bisogno di interventi valutativi da parte mia, ma mi sembrava importante che ci fosse il dottor Lagomare che nelle sue vesti di capo del personale di responsabile per l'anticorruzione sicuramente è il soggetto più esperto, indicato e comunque di primo e maggiore riferimento proprio perché volevamo dare una concretezza alle risposte e alle questioni sollevate. È evidente che il Presidente fa un discorso di ampio respiro, il Direttore Generale più o meno anche, il capo del personale sicuramente può dare delle risposte più puntuali come in effetti già con molta puntualità ha incominciato a prospettare individuando delle criticità. Come faccio a programmare? Anche le risorse umane sono una risorsa sulla base della quale un ente programma. Dunque l'avere o non avere risorse economiche forse può essere maggiormente sfidante nello stimolare la capacità di ottimizzare al meglio le risorse umane di cui dispone l'ente. Peraltro mi pare di capire che lei è un ricercatore, un tecnologo, un cre-tecnologo, rispondo perfettamente al campione perché mi sembra l'aria di maggiore criticità, quindi sicuramente è una categoria che ha delle istanze significative, però nessuno più di lei può sottolineare e comunque condividere con me l'affermazione che il capitale maggiore di cui dispone questo ente è il capitale umano e le conoscenze di questo personale. Quindi saper gestire questo capitale non è di poco conto, non dico che le risorse finanziarie siano indifferenti, abbiamo vissuto epoche di maggiore ricchezza, era molto più semplice, molto più facile gestire, programmare, rendi contare e portare a buon fine disponendo di tutti gli strumenti possibili, la bravura è nel saper gestire con poche risorse o comunque con risorse da saper valorizzare nella maniera più opportuna. Questa però è una mia personalissima opinione, sicuramente non posso rispondere né per direttore né per presidente. Ho dimenticato qualcosa? Volevo rispondere a, siccome siamo collegati in diretta streaming, giusto, queste sono le domande che stanno facendo? Da Uzzano leggo, non c'è chiarezza sui metodi di valutazione, chi ti valuta, quali sono i criteri, quali sono i KPA individuali e collettivi che ognuno deve raggiungere. Questo è sulla valutazione, sulla comunicazione, la comunicazione tra i vari C.R.A. sull'informazione non è sempre chiara, ovvero non si mettono in condivisione le informazioni e le pratiche che devono essere applicate, soprattutto per quanto riguarda le questioni amministrative. Sì, credo di aver letto tutto. La domanda è di Enrico Morrea del C.R.A. 15. Posso? In relazione a questo, volevo dire che il Direttore Generale sta dando mandato, tra l'altro, in questi giorni, per realizzare un gruppo che lavori proprio alla semplificazione dell'azione amministrativa all'interno dell'istituto e questo sarà appunto uno di quegli obiettivi principali, come dicevo appunto che poi dai vertici devono giungere e questo è uno di quelli che giunge in maniera chiara e proprio me l'ha comunicato qualche giorno fa che nel giro di penso una settimana uscirà fuori questo ordine di servizio, non so attraverso cosa lo farà, proprio per la semplificazione delle attività amministrative e quindi anche per il miglioramento della comunicazione, in questo caso tracrà per le procedure esistenti all'interno dell'istituto. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questa giornata, questo incontro. Innanzitutto io sono Maria Rosa Caporali e sono Presidente del Cug di Arpa Lombardia e Presidente della Rete Nazionale dei Cug delle Agenzie. Porto i saluti del Dottor Luca Marchesi che gentilmente mi ha delegato anche a rappresentare la Direzione Generale di Arpa e del Direttore Generale del Dottor Umberto Benezzoli. Noi stiamo facendo un lavoro molto interessante e anche particolare, per noi intendo non soltanto il Cug di Arpa Lombardia ma la rete dei Cug nazionali, stiamo organizzando degli incontri sempre più specifici che sono rivolti al benessere, allo stare bene insieme, a capire sostanzialmente con queste indagini che per la prima volta vengono affrontate anche in maniera serena, consapevoli che comunque ci sono dei problemi, consapevoli che ci sono anche le possibilità per trovare delle soluzioni e soprattutto consapevoli del fatto che le nostre amministrazioni per tutte le storie personali, individuali, collettive che si portano dietro sono purtroppo dei luoghi conflittuali. Questo dobbiamo tenerne conto e farne tesoro perché partendo da qui noi possiamo costruire un ambiente più relazionale, non direi paradisiaco perché è l'ottimo come si sa il nemico del bene, però più consapevoli che c'è la possibilità di individuare tutti e mettere in atto tutti quei meccanismi per poter riportare ad una buona convivenza e anche a raggiungere l'equità, raggiungere anche la capacità di comunicare e quindi di dare spazio a tutti quegli indicatori che sono tipici e che sono ormai da letteratura del benessere organizzativo. Sono stata molto colpita dagli interventi che sono riuscita a sentire questa mattina, mi scuso ma per un problema di distanza non ho potuto essere presente all'inizio dei lavori e devo dire che la ricerca è una ricerca puntuale, è una ricerca che può essere presa anche come modello, mi viene da dire noi della rete nazionale stiamo appunto cercando di individuare delle agenzie che possano mettere insieme un lavoro collettivo per poter creare anche un angolo di confronto, di benchmarking, perché senza il confronto noi non possiamo capire esattamente qual è il punto di partenza e quali possono essere, come dire, tutte quelle azioni che possono essere sinergiche. Dal momento che siamo una rete condividiamo molto anche dei momenti di formazione e recentemente abbiamo potuto sperimentare in videoconferenza con un collegamento di 10 agenzie tra cui Ispra, un momento formativo che riguardava alcuni temi del benessere. Questo non ci vieterà in futuro invece di parlare e di entrare un pochino di più nelle nostre organizzazioni e di capire il senso di queste indagini. In particolare vorrei collegare un aspetto che è peculiare dei Cug, che sono i piani trenali di azioni positive, con quanto il dottor Bellinzoni, nella chiusura del suo intervento ha auspicato, una lettura che possa essere trasversale, penetrante, efficace, efficiente e soprattutto economica, perché noi non abbiamo bisogno di spendere altri soldi, possiamo benissimo fare con quello che abbiamo e quindi intrecciare il piano della performance, il piano della prevenzione e il piano delle azioni positive dei Cug. Penso che a chiusura di questa giornata una proposta come quella che sto facendo possa essere significativa anche per far lavorare i nostri Cug, per renderli non soltanto visibili, perché con tutto quello che stanno facendo sicuramente un po' di visibilità se la sono conquistata, ma per essere utili alla nostra organizzazione e nell'essere utili alla nostra organizzazione noi saremo utili a tutte le persone individualmente. Quindi io ringrazio, lancio sul tavolo questa chiamiamola così apertura, perché mi sembra corretto utilizzare soprattutto in questo momento di difficoltà, tutte quelle buone energie che si stanno spendendo all'interno delle nostre direzioni generali, all'interno delle nostre organizzazioni, per poter portare ad inizio o a conclusione un percorso decisamente necessario, mi viene da dire, utile e che può dare anche degli sviluppi per il futuro. Il modello dell'ANAC, quell'applicazione web è già utilizzato da qualche agenzia regionale.